La tana del frerito Ciao prederigno Ciao Sabate il mio canale Twitch Con Amazon Prime La sub è gratuita E con i subtember costano pure meno Se abbiamo ricevuto il laboramento Mi faccio biondo Faccio tante cose belle Ti prego Un punto Per chi Si avvicina di più Alla città di origine Due punti Per chi si avvicina di più Alla traduzione da frase Questa è la traduzione da frase Prima persona che entra Mi raccomando Non parlare l'italiano Parla direttamente il tuo dialetto E mi raccomando Una cosa Ci dobbiamo prenotare E prenotiamoci Con E il primo che lo dice parla Ok Che si è di una squadra dell'altra Via Giove tu sei bravo a farlo Stai il bottone Sì Ah e quando uno si prenota Facciamolo bene Quando uno si prenota Se dice la risposta sbagliata Cioè no Vabbè sentite Fanculo Io non ce l'ho a fare Buonasera Buonasera Ciao Federico Porca vacca Questa è tosta Di qualcos'altro? No 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 Stai zitto Giove Di ciao come stai Com'è? Non posso È Milano Vai coc Vai coc Ferrara tipo No più giù Più giù Più giù Posso fare un guess? Dobbiamo dare una risposta Non è abruzzese Non è toscano Però è Lizio Secondo me è Umbro Aspetta Aspetta È ok Allora di questa frase qua Per favore Di tipo Mia madre Mi ha portato A scuola La mia mamma Mi ha portato a scuola Sì vabbè Che cazzo è? Vabbè Questo magari Ok Io vabbè Entrano Umbria Umbria Sì Eh vabbè Aspetta Non vale Non vale Zero Si annullano tutti i punteggi Vabbè l'avevamo presa No a sbagliare Non si può Non è chiuso ancora Eh Umbria Loccato Grande Grande cocche Ma no Avete loccato prima Avete sbagliato Non avete loccato Non avete loccato Voi avete chiesto Umbria E io ho detto Beh sì dai E io ho detto Eh loccata Umbria Eh risposta definitiva Siamo No allora No 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 Allora Chiariamo subito No Grazie Fausto Marzo Grazie morelloso Grazie Cedix Sarà questo stasera Io esco dalla live Ora Scusami Io non centro niente C'è tutta la mia buona volontà Di essere una brava giocatrice Allora Allora ragazzi Che siete Aspettate prima di dire Sì è quello Ditelo alla fine Perché dobbiamo dare le risposte definitive Ok Ma senti Perugia Esatto Lei ha detto Ferrari Ok ha detto Ferrari Io faccio così Locco Perugia Umbria E mi ha detto di sì Ok Dialetto Umbro Manu Dialetto Umbro È Perugia Federico Sì Sto parlando io Perugia Ma sto parlando io Ma sto parlando io Ma hai detto Umbro Perugia Dialetto Umbro Non hai detto Umbro Eh io ho detto Perugia La città esatta Cinque punti Eh sì sì Hai detto Perugia Vero Cinque punti Federico mi stai veramente sul cazzo Vabbè Aspetta Aspetta Dobbiamo indovinare la frase Dobbiamo indovinare la frase Ah ok Ti la frase iniziale Ti la frase iniziale Con calma Si vuole Mi sono sbire Nagarugna Mentre giocava Chiapparella Antlamagese Mi sono svegliato freddo Mentre mi scopavo un morto No Puoi ripetela lentamente Ti hai rotto qualcosa Mentre giocava da Chiapparella Esatto È un modo di dire immagino La ripeto lentamente Nagarugna cos'è? Sì Ho sbirato Nagarugna Mentre giocavo a Chiapparella Tlamagese Cos'è l'amagese? Allora Coc di qualcosa Io Aspetta Provo Provo E Ho Rotto Una Gomma Ho bucato Una gomma Mentre giocavo a Chiapparella Nel prato No Ok Coc di qualcosa Per Dio Ma scusate Ma ha detto Carogna o Garogna Perché Carogna Garogna Allora Ripeti a capo Garognola Garognola Sì Secondo me non esiste Secondo me non esiste Non esiste 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 No no Si è fatto male Cioè qualcosa tipo Messo Per forza Allora Il context È che stava giocando Da Chiapparella nel prato Giusto? No A Chiapparella sì Ma non nel prato Ma scusa È un modo di dire Nel campo È tipo Chi trova un amico Trova un tesoro Cioè è una roba No No è una frase Sì sì è una frase Sì anche Chi trova un amico Trova un tesoro È una frase Però è una frase Non è un modo di dire Non è un modo di dire C'è una frase Che ha un senso Che direste anche In una situazione normale Eh sì Puoi ridirla? Ho sbirato Nagarugnela Mentre giocava Chiapparella Antlamagese Ok Secondo me vuol dire Che scappava dalla pula No Secondo me vuol dire Che gli è successo qualcosa Che si sia Ropto un braccio Cazzo Cacchiapparella Però sbirato Mi sa di altro Non di rotto Federico Eh no Però se faccio così Magari Do Deve O se no Io direi Ognuno Sei tipo Slogato La caviglia Il ginocchio Si è rotto qualcosa Mentre giocava Da caperella No Sì Ho slogato La caviglia Sì Allora Sì Grande Cacchiapparella Matteo 5 Sì Sì Anche in chat Da me Non sta scrivendo Tutti Sì Ma io non ho letto La chat Basta L'ho rotta L'ho rotta La chat Non la vedo Non ha letto La chat Non ha letto La chat Siete solo In video Allora Ok 1-1 Quindi siamo 1-1 1-1 0-2 Cacchiapparella 10 La chat di Simone Perfetto Prossimo Ragazzi Niente 1-1 Cos'è la magese Cos'è la magese Hanno indovinato preciso Quindi è 10 per loro In italiano sarebbe magese Sarebbe la terra smossa Non so se l'avete mai vista Sui campi Tu quanti anni hai Quanti anni hai 19 19 Ma Mi sono slogato la caviglia Mentre giocavo a Chiapparella Sul campo Con la terra Assurda Non è che Mi dispiace No Gio No Basta È così Intera Va bene Tu per caso Va bene Andiamo avanti a indovinare A 19 anni Cioè basta Abbiamo capito Cioè cazzo È il gioco È il dialetto Abbiamo Città La frase Quanti peglia nel culo Ma non hai dimenticato L'ultima parte Della frase Ma chi se ne frega Ma chi se ne frega Cioè L'importante No No Non è che possiamo Regalare punti I punti sono tre Come ci si sente Male È brutto Quando ti fanno sta cosa Però Per noi Per noi L'avrebbe letta Giù Eh Vabbè dai Federico Senti Federico Senti Torna Vai a Perugia Lui ha detto solo Ho slogato la caviglia Non vale la cosa completa Perché avevi già dato la risposta E non sapeva prima che cos'era Ci sono un totale di punti Da distribuire in ogni round Se no Allora veramente 40 punti sono nel primo round In questo round qua c'è tutto il punto vostro Facciamo così Due punti vostri Perché tu hai indovinato Perugia Ed hai indovinato il dialetto umbro E noi un punto Perché abbiamo indovinato la frase Due a uno Facciamo che Distribuiamo un massimo di tre punti a round Se no arriviamo al primo round Va bene Va bene Va bene Va bene Oh bravo Bravo Simone Imponiti Queste regole andavano fatte prima All'iniziale Però vabbè Le abbiamo gestite al primo episodio Le abbiamo gestite al primo Allora prima scelta Posso dire soltanto una cosa Senza attacchi Eh Posso dirla Vai 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 Allora A me sembra tipo Scappando dalla pula Senti Secondi dopo Slogato La caviglia Il giorno del Nesson Ci ho pensato meglio Ma ci ho pensato meglio Ma come a scuola Sicuramente Ma come a scuola Gioe Gioe Simone è un genio Devi lasciarlo Cucinare Allora Presa per il coda Una donna no Per favore Volevo Volevo Complimentarmi Complimentarmi con Simone Perché col suo metodo Analitico È riuscito a trovare la risposta Dello switch Ok ci siamo Che sto proprio scaldando la mano Per buttarlo fuori Federico Ciao Federico Ciao ragazzi Buona serata Grande I spelli ospite Minchia che goduria Niente questo è Lo sento Ciao Ciao Allora la frase è Stasito in rio dire more Non stare più Veneto 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 Brava Sì Previso No Venestia Vai Gio Venestia Verona Grande E quella è di Verona La frase La frase è zitto E quella è di Verona Gioe Non ha indovinato Gioe allora come ci siete Adesso una merdaccia Con gli occhiali Ma scusate Ma scusate Ma se vuol dire Che voi mi stai sfottendo Per gli occhiali Ma sei un bambino Stai zitto Quattro occhi Allora Gioe Ripeti Ripeti la frase Che la traduco subito Annientato eh Stasito in rio dire More Punto di domanda Non servire due lade Cosa stai dicendo Amore Non dire boiate Ma mi accoppia La mia venetina La mia venetina Brava Eh ho capito Ma non va Ma adesso 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 arriverà Il dialetto Tuo Lì Dell'Africa E Ce l'avremo Basta Segnalato Manu Manu Aspetta Prima faccio una cosa Dimmi Mi prenoto Perché qualcuno Non ha loccato No dai Non so Dai Loccala dai Vai Se iniziamo così ragazzi Tre punti a voi Tre punti a voi Quattro a due Quattro a due Quattro a due Bene Oh Fran Dragon Sei stato un grande Veramente Ti stimo tanto Grazie ragazzi Come ti chiami su youtube Andate a scrivervi sul suo Ok ragazzi Fran Dragon su youtube Mi raccomando Ci sono pure gli abbonamenti Grazie Anch'io ti amo Ciao Ciao Wow Wow Posso fare una domanda Simo Se lui Avesse Cioè metti in caso Che tutti i punti In questo round L'avessimo presi io e Manu L'avresti spammato lo stesso Questo ragazzo Ma va L'avrei buttato fuori subito Gli avrei toccato Ovvio Normale Ciao Ciao Se mi suso Ti scippi i canna ruozzi No 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 Sono stato il primo Palermo Sicilia 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 Aspetta aspetta Non dirò la risposta Matti Ok la tua guess è Palermo Parla ancora Sicilia No aspetta Gio La tua guess è Palermo o Sicilia Vuoi stare largo Vuoi stare Palermo Ok la tua guess è Palermo La mia guess è Sicilia Animale di merda Aspetta 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 Matti Allora Sicilia è giusto Catania Trafali Sì Finisci la frase dai Prenotati Prenotati Gio Messina Messina Allora Puoi parlare per favore Non conosco le città della Sicilia Scale Ci sui scale da Eh Su vuoi Di una frase Di una frase C'è vengono capare Non c'è a sé Prenotati Prenotati S'ho prenotato Gio Prenotati Prenotati Gio Fai prendere Simone Vai Questo è chiaramente Lampedusa Non è Vabbè comunque la provincia La provincia Si sta parlando Provincia l'avete azzeccata Sì Catania Eh no vabbè Sì la città Tu pensi di merda dove vivi Che cazzo le so Allora Catania Scala Cattagiramica Cattagirone Cattagirone Il fidanzato immaginario Cattagirone Di che provincia è Di che provincia è Cattagirone Catania 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 nostra Ok va bene Catania nostra Eh io ho origini catanesi Però Sicilia io non te lo darei Il punto Simone Catania Vabbè è un punto furbo Però è un punto Cioè se dobbiamo essere onesti Tu hai detto Io ti ho pure fatto la domanda Vuoi dire Sicilio o Palermo E tu bai lo fiero Fai Palermo Eh ok Ma vale i tuoi punti Della città Quindi Ripeti la frase Se io indovino Dove abita Prendo un altro punto No basta Non è che i punti Si tirano fuori Abitiamo Modena Locca Locca Cattagirone Locco Abitiamo Modena No 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 Dai giochiamo bene Così non ha senso Che coglione Allora due punti vostri Perché hai dominato la città Un punto mio Perché hai dominato la regione Adesso l'ultimo punto Per la frase Parla Vai Se mi suso Ti scippi canne rozze Nacchito solo E prenotati già Ma Manu Ma non puoi prenotarti tu Dio Bono Perché non è tasto Non è tasto C'è il mazzo Il mazzo è più carino Allora Se Mi truffi Ti taglio la gola E guarda che è così Vabbè Ripeti da un attimo Cocca aiutami Ti sprego No 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 Se sei loccato Non puoi ripetere la merda No vabbè Vabbè Sì cosa vuol dire Parli Ti dico di che provincio sei Parla Simone Se Se mi alzo Ti strappo la gola Sì Più corretta È più corretta Di quella di prima Comunque Ok Fate di meglio È più corretta Ma l'ultima però L'ultima L'ultima parte Qual è l'ultima L'ultima parte L'ultima parte Ma chi lo so Prenotati Nel culo di tua sorella Nella fissa di tua sorella Una festa Ma ti fa una festa esordata Quindi Ah prenoto Allora La frase è Cioè tipo Se mi alzo Ti taglio la gola Ti strappo Ti scippo Il canarozzo E la gola Ti scippo Le tussille Perché io sono catanese E il finale È appunto La festa di tua sorella In culo La festa di tua sorella Ma non ha un senso logico Ma non ha un senso logico Questa frase Invece sì Lascia stare siciliano Prima lo minacci Poi lo insulti Ah Esatto Come li gestiamo Matti C'hai tre punti Come li gestiresti Tre punti Matti Io ho tradotto La parte più grande Della frase L'ho tradotta Ieri Ricordatelo Due parole Lui aveva detto Ti taglio la gola E lui te l'ha data Perché tu hai detto Ti strappo la gola Ma non ha proprio Azzeccato Il canarozzo Ci ha azzeccato Proprio alla parte Il canarozzo È il canarozzo Io se siete d'accordo Farei due punti a noi E un punto a voi Poi hanno azzeccato La provincia Loro La Sicilia La Sicilia Dopo che ho detto Palermo Sicilia E noi Catania E la frase Dai Va bene Due punti a voi E uno a noi Ok Vabbè allora un punto a voi Un punto a voi Sì erano 4-2 Sì aggiungi un punto a noi 4-3 Sì sono una persona onesta Grazie Matti Bella Grazie a te Bella Ciao Matti Allora aspetta che faccio Quello corretto prima Ovvero di scrivere i punti Perché voglio assolutamente Ricordarmeli Prossimo Ciao Fabio Ciao Ciao Fabio Stamattina ho misegnazzato Eccolo io 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 Calabrese È corretta la Calabria Città Te la dico subito Ecco senza Sì Ho capito ma il mio Non esiste Dai Ecco Aspetta Una volta che ti prenoti Puoi dire tutto Sia di città Se ti dice Sia la regione Puoi continuare con la città Allora Manca solo la frase Per il punto Quindi adesso Puoi ridire la frase da capo Ok la finisco Vai Inizia Ricomincila Stamattina Mi sei gnazzato Fuora c'era Un vento Che manchi I cani Io Prima io Stamattina Ma dovevamo finire noi Ragazzi No Vabbè Ciccio Quanto cazzo Mettetevi Faventare Dai che mi sono dimenticata Stamattina mi sono Alzato e c'era un vento Che manco I cani I cani Sarebbe Un modo Manco i cani Quando ci fischi No Non c'entra un cazzo Ok è finita la frase Vero è finita Dai Basta Ok vai avanti Vai Vai Mi ha pensato Mi ha avuto un mal di testa La cefalea La testa Un 2.0 Dai la 2 A 1 Grande Salusso Ciuccialo 2 a 1 2 a 1 per noi No Quindi 4 a 4 Eh io lo sapevo Cazzo Vabbè facciamo direttamente 4 a 4 Sì è meglio Sennò arriveremo con 40 punti Grazie Foglio R Grazie mille Grazie Fabio Ciao Ok Ciao 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 Manuxo impastato Prego con la frase Che ieri una volta Feder volta Che il cagheva In una sporta Eccola io Su me è tipo Questo è un altro Veneto mi sa Eh Tipo da quelle parti Com'è Com'è Friuli Venezia Giulia Non dico niente Trentino Devo dirlo Sì di se è un Friuli Trentino Cioè è una di queste tre No 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 Eh Vabbè Morissi la sperano tutte Vai C'è molti forse Piemonte No vale da Osta Emilia Romagna Vabbè Emilia Romagna Liguria Liguria in Emilia Romagna Emilia Romagna Meno male che abbiamo un'analfabeta Emilia Romagna Bologna Reggio Emilia Meglio Meglio di Reggio Emilia Meglio Modena No Simone Avenna No Meglio di Reggio Emilia Ci sono una città Parma Parmesano È Parmesano Ok Dice la frase Allora La ripeto dall'inizio Vai Allora Gay era una volta Peter volta Che cagava in una sporta Ma la sporta Il Gay la rotta E Manuxo Il Gay era sotto Non sono Gay C'era una volta Peter volta Che cagava in una porta Che cagava in un sacchetto Una sporta Una sporta Cos'è una sporta Una sporta secondo me È un armadio Tipo un cassetto Proviamo un'altra frase Proviamo un'altra frase Questa è un po' complicata Sì ma fanno una un po' più corta Una busta Grazie Meb Grazie il flexo Grazie Gregoz È una botte Vabbè Fai una frase un pochino più Vabbè Ok 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 Cosa un pochino più stretta Mi madra Mi portava E te la scrive Eccomi Mia madre mi portava a scuola No ho fatto un po' Votto prima io Ho fatto prima io Mi sono trenutato io Non è vero Non è vero Guardate la clip Fate la clip No Manuxo Dai no Vediamo chi si è trenutato prima Peter buttalo fuori Simone Buttalo fuori Andiamo al bar Io sono sicuro Di aver siano trenutato prima Io non sono sicuro 100% sicuro Oh Io posso essere trenutato prima Mamma mia Manu Mamma Io sono Io sono Imparziale Sei sincero A me sembra Simone Oh bravo Io ero sicuro Che ero io prima In chat Gli arbitri stanno Assolutamente Forse perché non mi ha preso L'audio microfono Per il Trisold Però va bene Forse perché lui è l'hoste Quindi a lui gli arriva prima Sarà il pico Certo lui Almeno di lei Di noi Siamo tutti a Milano Sei giù in Calabria Arriva dopo Un punto a voi Ok quindi uno a uno Va bene Va bene No cioè Due a uno Ah due a uno per noi È vero No Avete indovinato la Avete indovinato la regione La regione due a uno Due a uno Vedi come siamo onesti Un punto a voi Cinque a quattro Sono onesto Bravo Giove Infatti Ci ripagherà Ci ripagherà Grazie A me piace vincere con Bella Posso dire una cosa No Ok Prossimo Mettilo dentro Mettilo dentro Ma come Allora Buttolo fuori Io Kokeshi Ti seguo dalle Svapo Battle Oh no perché Mi dispiace Mi dispiace Tantissimo Cavacca Ciao Ciao Gio mi dispiace Vado con la frase A richiudere lo stroll Quando è scelta Lo porco Eccoci L'ho fatto prima io Cazzo Pre mezzo Minchia Cioè vabbè Passa la parola Coq Dai Stessa quadra Mi ero prenotato prima io Aspetta aspetta Fatemi pensare Puglia Marche 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 Ok Luop work Luop work Luop work Luop work Posso indovinare pure la città Vai Si è ben indovinato Gioe tu sei Io direi O macerata O Diciamo Ancona Tipo Ancona Macerata Non è Vai ti diciamo San Benedetto Ancona Si San Benedetto È verso la fine Che io ti direi Zona San Benedetto Ancona Ah no Avevano il diritto Loro di dirlo Allora Voi dite San Benedetto Noi diciamo Ancona Vediamo che vince Vai Nessuno ha indovinato San Benedetto Non è una provincia Io intendevo la provincia Di Ascoli Piceno Ah ok Allora sì Ma dai Ma non sai neanche dov'è Ma che cazzo Ma non sai che dove cazzo Ascoli Piceno Quando è che ci sono unite Quando è che ci sono unite Quando è che ci sono unite Ah ok Eh fanno il giro a caselli Gioe dimmi quando ci sono unite Dai ci seguiamo Quando è che ci sono unite Ascoli Piceno Dai bimbo Non è una lezione di storia È geografia Moreno quando è amarti Con la cazzo di frase Allora A re chiude Lo struole Quando è uscito lo pork Ho tirato lo sciacquone Quando Dai ragazzi Ho tirato lo sciacquone Quando è uscito lo stronzo Ma tirate lo sciacquone Cosa Ho dovuto chiudere Devi chiudere la porta Quando esce il maiale O comunque devi chiudere Il coso Quando esce il maiale Il recinto Diciamo Dai Quasi Dai zio Chiudi Si è prenotato Cocca però Di qualcosa Io sto giocando da solo Ma io non lo so Simone Io ho capito il cazzo Chiudi la Il recinto Quando il maiale È in groppa Abbiamo No La seconda Però No Terry Quando il maiale Puoi dire la frase Allora Allora Chiude lo struolo Quando È uscito Lo pork È quando è uscito il maiale Quando scappa Quando Quando è cotto Quando è già È già morto Quando è già uscito Il maiale È Quando è già uscito il maiale Ah vabbè Zio dai datemi Sì dai Zio Quattro punti Ma lo struolo Cos'è Lo struolo Cos'è È il cancello Sarebbe Quindi chiudi il cancello Quando è già uscito il maiale È un modo per dirti Esatto Che fai le robe troppo tardi Allora È un modo di dire Che sei Diciamo un po' Un disattento Simone Sono stato onesto prima Sono stato onesto prima Tu hai detto Adesso hai detto Devi tirare lo sciacquone Quando hai tirato Lo scorso Io ho detto Devi chiudere Devi chiudere La porta in ringhiera Nel recinto Quando esce il maiale Dai Sì va bene Appunto loro Secondo me Sono tre a zero Secondo me Sono tre punti qua Ti ho messo tre punti Io ho messo tre punti Ok Tre punti a noi Oggi mi piace già di più Oggi mi piace già di più Ciao Moreno 5 a 7 Ciao ragazzi Grazie Ciao Mi fate la clip Grazie 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 Ci vuoi provare Fidanzate 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 Ma chi è una streamer No Una tiktoker Guarda guarda Questa è lì Ferma Però potresti uscire Così lasciare un spazio agli altri Esco Esco Tranquillo Browser Ehi vinto Ciao Ciao a tutti Come state Buonasera Bene Buonasera Ma non ho ancora detto La frase Vedi perché Dovete stare zitti Quando entrate E dire solo La cazzo di frase Vai 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 con la frase Hai una pionica Voglio Che non Facci Non ti fai Alla Io 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 Ha detto Manu Manu Calabria Ok Non è più Cosenza Come non è più Cosenza Può essere credo Vai te Manu Sei tu il Calabrese Cosenza Cosenza Ma se non le sai Catanzaro Catanzaro Cosa cazzo c'è? Questo qua è il DG Questo è di Reggio Calabria No 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 Reggio Calabria Ma se l'ho loccata io Hai fatto la battuta Hai fatto la battuta Hai fatto una battuta Hai fatto una gag Hai fatto una gag Hai fatto una gag Hai detto Ma questo qua è più giusto Com'è il Reggio Calabria Così per gag Io l'ho loccata Ma sei una provincia Della Calabria Secondo me ha detto no Secondo me ha detto questo È di Reggio Calabria Secondo me non era Secondo me non era un'affermazione Era una battuta Che poi è andata di culo Che lui ha fatto No ma non era una battuta È più giù Reggio Dico senza È l'ultima provincia Reggio Calabria È con la più in basso L'ultima roba della Calabria Che cazzo di città ci sono lì Ma secondo me non è neanche Reggio Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria E tu Ah no aspetta Crotone Crotone No ma è Reggio Sì vai Crotone o Reggio Io dico Crotone Perché non è Crotone Reggio Devo dirlo Sì Se è giusto Reggio E andiamo Ti giuro Ti giuro Gioè Gioè Però Davide Io avevo detto Reggio Calabria Proprio per dire No no però Davide Sei d'accordo con me Che il dialetto Reggitano Si dice no È molto simile A quello messinese Assolutamente Assolutamente no Ma Luxo Micchia Io odio i calabresi La mia prof La mia prof Di Reggio Parlava esattamente Siciliano Praticamente Ma che prof hai avuto Ma Te lo giuro Te lo giuro Ma tu Di che zona sei Della Calabria Ma Catanzaro Ah ok Ora si spiega tutto Quelli strani Della Calabria Oh Gioia Allora Era stra crotonese Ma che mi ha incazzato La ripro Di la frase Vai Che Gioia è disattento Oggi hai una pionica Che non ce la faccio Stai allardetta Ah Capito un cazzo Poi Impossibile Allora io ho capito Tratti Solo due parole Mi mancano No ripetila di nuovo Per favore Nessuno si è loccato Oggi Hai una pionica Che non ce la faccio Mi stai allardetta Come cazzo Pagano queste Diciamo che Secondo me Oggi ho Tipo un sonno Che non ce la faccio Stare in piedi Bravo Bravo Della Calabria Bravo No comunque Ci devo dire Mi sono mutato Perché mi è arrivato un ride E Stasera Bastoni Ha fatto una paperata Per cui L'Inter ha preso il gol Da Real Sociedad E ci hanno detto Simone Che è tutta colpa nostra E quindi ho detto E i ragazzi Diamala Cioè Hanno fatto il ride Quindi dopo Non passerà mai a salutare Eh Ha un pareggiato Alla fine 1-1 Sì comunque Non penso che Passi a salutare Con Real Sociedad A mezzio Abbiamo pareggiato Anche voi Con Newcastle E Vabbè Grazie Giuliano Grazie Vale Per il primo E due a noi A due Io ho indovinato Calabria E la Eh ma loro Loro uno Quindi a sto punto Al posto di far due Uno Facciamo direttamente uno Ok ok Un punto noi Voi zero Ma come due voi Ma noi abbiamo Individato la città Oh Eh E noi la regione Noi la regione E la frase Coc Ma la città Valle due punti No ma Coc Ma cosa stai giocando No Vabbè scusate Allora ho capito un cazzo Andiamo avanti Comunque Manu Si è mentuto Alla mera proprio Si è mentuto Alla mera Ma fa il culo Ma forse Che vuol dire Che si è messo proprio male Che non capisco Dove sono Bro ma io ti giuro Il dialettore gitano Sembra veramente Cioè almeno dalla mia prof Sembrava Mafioso Parlano molto più Contrati iscrivani Vuoi sapere proprio dove sono Io in Calabria Vai Dece comba Ai piedi dell'aspromonte Mengio La troia Quindi Stia per eruttare No no Non è ruttare Non è ruttare Non è ruttare È una collina Mi sa Non so cosa c'è È una montagna Quella collina Comba io sono D'asila Ma picchi la gente Davide No no Io sono un bravo ragazzo Bravo Davide Vediamo Siamo a Milano Green Eh Abita a Milano Come abita a Milano Ora sei a Milano Eh sì Abita a Milano Però è di lì Puzzo sgambato Vabbè Vabbè Grazie comunque Davide Grazie Davide Ciao 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 Ma a quanto siamo ragazzi Scusate 8-5 per noi Non capisco i miei compensati Sì ma tu Ma non so Comunque Calabrese 0 Ma non lo so parlare Mi bullizzano Perché non so Con il dialetto C'è anche da dire Che zio in Calabria Cioè Se un cosentino Va a parlare Con un reggiano Zio non si capiscono No 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 Ma sono troppo diversi Sono lì a stare Troppo diversi Infatti Lui Lui sembrava tanto Estero africano E quindi Va a dire Figa te sei proprio di giù Te sei di reggio E quello era il senso Della Della mio guess Su reggio Però L'avete detto voi Perché secondo te Era un meme La presa non è facile Da capire Simo Siamo 8-5-8-6 Io c'ho 8-5 8-5-8-5 Anche 8-5 Ok Oh c'è Duzzo Ciao 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 Alex Questo è peruviano Non so No no È di qualcosa Allora Campania Gomba Stai in Campania? Sì Ok No possiamo Toccano qui Manu Manu Allora Allora Se diciamo Napoli È troppo scontato Però Buo Sono tutti Di lì Forca Prendiamo quella Con più province Prendiamo quella Con più province Perché può essere Anche Benevento Può essere Avellino Potrebbe essere Zio tipo Lo fa Nell'Ottaver Tipo l'Acerrano Cioè Caserta Ma non è tanto Di Acerra Voi secondo me Non tango Vabbè Non abbiamo detto niente noi Eh ditelo però Locchiamo Manu Dai Locchiamo Con tutto Il bene Del mondo Io voglio Loccare La più grande città d'Italia Napoli Eh Vabbè È Napoli Sì Però non Cioè è provincia di Napoli Provincia di Napoli Che cos'era per sapere Giuliano Giuliano Vicino Lago Patria Esatto Come cazzo fai a sapere Lago Patria Allora Ho un amico Un amico Che ci vive dentro Poi Puoi dirci una frase corta E dobbiamo tradurla E Tra set Alla seva Ducutando amici Tra set Rindububman Saravet Nipuort Ti prego Cocco Ti prego Ce l'ho io Io ce l'ho Io ce l'ho Io lo capisco Benissimo L'ho dimenticata Simone Eh Cocca Tra set Rindububman Aspetta Allora Allora la ridico Eh sì perché Tra set Rindububman Forest Chizzichiamo Ma è diverso da quella di prima Ma è cambiata Eh sì Allora la ridico Un momento Attento È bella lunga Allora L'unica una Le dico Tra set Tintububman Forest Stave Chizzichiamo E Saravet Nipuort Vai Manu Allora Sono entrato nel Pullman Ok E fuori Stava Pio Viginando Ok E E si sono aperte Le porte Esatto Eh che palle Ma smescila di dare la colpa a me Grazie Alexandro Aleksanderlo Pozzanapoli sempre Aleksanderlo Pozzanapoli Pozzanapoli Oh Cocca Allora io chiedo Chiedo una cosa Io Sono più napoletano Dei calabresi Benitemi incontro Oh Gio e Manu Venitemi incontro Ci sono dei soldi in palio Simone Sia della volta scorsa Che di questa volta Cocca non è collaborativa Cocca piuttosto provaci A inizio episodio Cocca è stata corretta A inizio episodio Cocca è stata corretta Cocca ti ha chiesto Non vogliamo cambiare squadre E tu hai detto No Sei la concorrente a cui voglio più bene A cui Chi stimo di più Continuiamo C'è un successo Oh Manu Ciao Teamwork Dai Andiamo Simo ma cosa vuol dire Scusami però aspetta Simo Chiariamo anche questa cosa Manuxo adesso C'ha 11 punti Ce ne ha 5 Allora Manuxo Zettiamo Adesso si riparne da zero No mi vuole affossare con lui Io mi son preso Il Malus Lasciamo almeno i punti Ma perché Io sarei un Malus No È onesto No nel senso Cocca che Il Veronese è già entrato E non ce ne sarà un altro E quindi La regione tua È già stata presa Capito In quel senso Quella di Manuxo è stata presa quattro volte Simone 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 vuoi vincere Simone vuoi vincere Lascia i punti a Gioe E prenditi Manu Lo dico per te No Cocca io voglio solo che ti impegni Per favore Aumenta l'uomo delle cuffie Non lo so Fai qualcosa No ma non si cambia ormai Simone sono tutti del sud Io non riso gli accenti del sud Ma Cocca ma scusa Ma sarei mai andata a letto con un uomo del sud? No Aspetta il massimo Il massimo è Roma Ma questa frase A me sembra un po' razzista È vero Sembra quasi come Se quelli del sud Sono delle merda C'è qualcosa che non vanno Quelle del sud Ma che cazzo c'entra? Ragazzi ma si è andata con qualcuno del sud? No Non l'ho detto così Non l'ho detto così Razzisti Siamo tu che ne pensi? Eh che fortunatamente non avrà una malattia Razzisti Omofobi Nazisti Io mi distorcio Io mi distorcio Transfobici Del cazzo Io amo il sud Simone Ho un amico del sud Sì A posto Scongiurate tutte le malattie allora Ciao Giulio Fraz Ciao Giulio Prego La frase è Laucion non iscicchia e carusi Il mio pallazzo Eccomi Sicilia Sì Mica però Fede io Tutti da Sicilia Carusi dovrebbe essere di Palermo Ah no Catania Catania Carusi e Catania Uno ulo Diciamo Senti una frase Laucion non è scicchia e carusi Mi andiamo a ballare Mi buttai una E mai sai Porco Dio Eccomi Eccomi Allora Un altro giorno Sono uscito con i ragazzi diciamo e siamo andati a ballare e mi sono scopato una vabbè sì forse oddio un punto a noi bravi 2 a 1 l'altro giorno è andata a dipogliare la clip nostra in cui poi abbiamo fatto risposta agli insulti infatti sei tu che mi perdevi infatti hai detto era lui ho visto l'incubo per il baffetto per far capire il chat era il format la gente ovviamente non mette le clip decontestualizzate quindi ho visto i commenti in cui pensavano che io ti avessi insultato a caso ma era per il format ci mancherebbe grazie Giulio apprezzo che l'hai spiegato per quelli che magari non avevano capito il format sì ho fatto tutto per questo perché poi magari le persone possono capire male far intendere certo grazie Giulio grazie mille ciao ragazzi ciao Giulio ho fatto ridere che io perché io ieri o l'altro io ho fatto il format dove entrava la gente a insultarmi minchia il giorno dopo su tiktok pieno di clip che uno senza sapere senza sapere che live ho fatto dice minchia cosa è successo ieri nella live di Grimbo un abuso unico c'è minchia ha perso la velocità grazie a Twitch sei una merda ti hanno superato tutti fai schifo sei brutto hai capelli unti che cazzo è successo e vabbè molto divertente è uscito lui comunque stimo prima di continuare vorrei chiederti se per favore ci aggiungi i tre punti di Napoli e questo punto dal ragazzo appunto due 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 uno perché loro hanno indovinato Catania 5 a 11 5 a 12 8 più 3 di Napoli di prima fanno 11 più uno di questo qua che abbiamo indovinato Simone facciamo cagare ah ok allora se ci avete con me certo che includermi in questa frase ci vuole coraggio guarda guarda Simone fai cagare quanto me fai cagare quanto me però io almeno ci provo coca prefisco far cagare provandoci lo sai su 5 punti io quanti ce ne ho regalati 3 coglione 3 con Verona 3 erano miei posso dire una cosa vorrei tirare una lancia a favore di Simone e di coca oggi l'MVP lo sta facendo Manu è Cristo voi non state sbagliando chissà cosa Manu oggi sta giocando molto bene sono in forma sono in forma allora i cristiani pensando che lo servirà da run up è capace lo scaricando e cominciando con l'uso vai Simo io ce l'ho la regione pure io ma non mi sono prenotato per pietà un pochino Calabria no no bro ma che Calabria è Calabria no no vai tu Giove dai io non basso Sicilia no no coc però ti prego di qualcosa no non è siciliana se le cristiane stanno Calucirbietta run up è capace quello scaricando cominciando però devi dirla Simo Citylocchia Puglia fermi 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 Puglia Puglia dove però è troppo generale Bari no Lecce 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 vabbè provincia provincia di Lecce no 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 è vicino Barletta no vicino a Lecce a Lecce c'è un'altra provincia che fanno due eh 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 no ci si è allucati muto ok vai io ce l'ho io ce l'ho io ce l'ho io direi Taranto o Brindisi vedi te eh Brindisi se se però posso dire io ho chiesto Manu io direi o Taranto Brindisi vedi tu e tu Brindisi si volevo sapere Kokeshi che c'è contro quelli del sud ma io non ho fatto niente ma come no è prima sono entrato visto che insultavi tutti ma che cazzo dici non parla non so devi sapere che ci schifano sono tutti di Milano e ci schifano io ho grande rispetto per quelli del sud oh Gioe mi spiace occhiali di merda eh togli non vedo vedo non vedo oh slenderman slenderman c'è ancora la frase io lo sapevo che era pugliese ero solo sicuro fosse diverso è vicino vabbè è vicino invece è vicino io l'avevo capito puoi dirci una frase Lorenzo che inizia e finisce noi dobbiamo indovinarla ti posso ripetere questa? vai sì sì certo allora c'erano i cristiani pensano avanti il piedo è run up è capace quello scaricando e cominciando quello usano eh se i ragazzi iniziassero a pensare le persone iniziassero a pensare che il cervello è un'app magari lo scaricherebbero lo sarebbero bravissimo Manuxo vaffanculo 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 io ho lasciato città e regione così no non vale non vale troppa gente del sud troppa gente del sud però è diverso il dialetto non vuol dire che è lo stesso cambia molto ma per noi è un'altra lingua proprio ma non c'è ci può arrivare anche per me Manu cioè non è che sei mosse a morire non per te non per Manu io non ho capito il mio compare calabrese non vale non vale è diverso te lo posso segnare un punto a voi grazie a voi ciao Lorenzo buona serata sì comunque veramente tutti del sud dai qualche un punto a voi qualcuno del nord posso dire posso fare un una roba per quelli del sud cioè tu dici tutti quei sono tutti del sud sai cos'è che al nord zio il dialetto si è perso cioè tu mi sai dire una frase in dialetto milanese sì o mia bella madonnina lombardia o mia bella madonnina ti so parlare il friulano il carnico però ragazzi allora io vi dico tipo il dialetto pugliese in questo caso i film di che cosa non li avete visti si capiva dalle u che è un po' pugliese si capiva infatti pugliese è un'unica cosa che ho diventato io per me le u sono usate prima guess di simo due punti noi e uno vostro calabria calabria un punto direttamente a voi siamo 12 a 6 un punto 12 a 6 c'è un punto così coca ti prego ciao Enea non ci senti non ci senti? è proprio a sistemare bro Enea è nome nordico però oh nicio naccio ciao posso? vai te lo iabbo non ci mueri ma ci capi tu lo sai coca? no posso andare? aspetta no fammi registrare uno aspetta Cristo Dio eh ma mi ero prestata ok 16 puglia 16 puglia io prendo la macchina penso di essere stato più veloce forse l'ultima cosa che faccio allora no io sono una personale tocca effettivamente me mi gusta la risposta e io dico Puglia città città io provo una guess così buttata e dico Bari posso uscire? come posso uscire? dopo questa posso uscire? Lecce lecce coglione veramente mamma mia vabbè dai mi ha rubato il tempo mi ha rubato il tempo uno a uno vediamo quella fase aspetta aspetta forza Lecce quanta noncini da Lulecce Simone guardami dritto negli occhi e dimmi cosa vedi? una merda se quando ti sei prenotato volevi dire Puglia assolutamente no ciao allora io io vuoi andare al bar perché l'ho detto perché ero convinto al 100% ero convinto al 100% che mi sono prenotato prima io no no vabbè ma tu c'è il ping a 2000 ma non lo so andiamo al bar io mi sono sentito prima io eh eh ho capito che grazie perché ti senti prima vabbè comunque no ma lo sento se ti prenoto ragazzi è tutto è tutto in gioco con la frase nicio naccio puoi dire faccio una frase per favore te lujabu non ci mueri ma ci cappi via allora in gabbia non ci muori ma ci cappi no ci stava però eh ripetila per favore te lujabu non ci mueri ma ci cappi allora eh minchia non ho idea lujabu sarebbe tipo la sfortuna mhm come si può dire in italiano cioè insomma è una roba in cui puoi provare a cambiare no cambia frase dai non abbiamo proprio idea mi so no secondo me era in quella cosa eh non ci muori ma ci finisci cioè ci esatto però lujabu cos'è? lujabu mi manca non ci muori ma ci finisci nel gabbio no il cappio in prigione ma è una parola simile a livello nomatope cioè a livello di fonetico secondo me no non c'entra nulla non c'entra nulla lujabu è lujabu non ci muori ma ci finisci la bara no ad esempio ve lo metto in un altro contesto context nutte fare jabu del gioco cristiano eh sì è come il calabrese no non è gioco è tipo deridere derisione esatto esatto gioco derisione eh non prendersi gioco diciamo esatto sì in calabrese in calabrese gabbu frase completa frase completa simone no cox sei deficiente sei deficiente ho prenotato per te ho prenotato per te la sai ma io non la ricordo più ma anche me va bene ok non ti puoi prendere il gioco della non ti puoi prendere è la ciozzole motte perché sono una persona seria ed è un'ora no 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 allora nel gabbio non ci finisci se prendi il gioco di rosa non ti ho mai a fare il culo vai apprenderti il gioco della gente non ci muori ma ci finisci tu come loro diciamo ci puoi finire ecco nelle malasorti può capitare lo fanno cosa cosa vuoi dire cosa vuoi dire Simone è giusto nicionaccio zero su instagram nicionaccio nicionaccio tu a chi daresti il punto in questo caso a noi nicionaccio tutti e tre a voi tre ok allora facciamo così visto che nonostante noi avessimo scelto Puglia e visto che l'ha detto Simone facciamo uno tecnicamente il punto di Puglia è di Simone noi abbiamo indovinato Lecce e abbiamo indovinato la frase quindi niente punta Simone un punto ok zero punti entrambi aspetta allora ne mancano due se se li se li indoviniamo entrambi noi vinciamo ci sto ci sto ok ok ci sta vuoi sapere una cosa Simone facciamo così punti doppi punti doppi vuol dire punti doppi per tutti e vuol dire una cosa voi se fate i punti doppi vuol dire che in un round che sono massimo tre punti arrivate a 12 e noi siamo a 13 in questo momento quindi con l'ultimissimo round si gioca tutto se voi nel prossimo vincete tre e siamo a 13 Simone eravamo a 12 abbiamo vinto il punto di Lecce ok sentite? si ciao Giuseppe prego gli unciti con il meglio di Tia e perdici le spese vai coq devi dirlo però quelle tre sono Tia costi 10 K Bruzzo Sicilia esatto ok puoi ridire la frase per favore minchia la bussa Sicilia ma c'è veramente tutta l'Italia di mezzo puoi dire la frase per favore gli unciti con il meglio di Tia e perdici le spese ah questo è di su io la frase la so no no Catania no no c'è niente Catania vai Manu Valermo bravissimo Valermo ok la frase unisciti con quelli meglio di te eh e perdici le spese le uscite ciao vabbè dai fine del format abbiamo perso coq hai perso però per dio aspetta un attimo non so come ti permetti di parlare regione regione città e frase 3 per 2 6 13 più 6 19 buono siete simpatici no no io sto cercando di fare le robe in regola no 19 19 coq non ha capito che le spese deve donare anche lei però vabbè vi propongo una roba vi propongo una roba se avete una e comunque Simone sono i tuoi fan cioè ricordiamoci ok vi propongo una roba altri 10 minuti intanto Fedeiu sarà ancora sveglio solo adesso 5 persone solo del nord se vinciamo noi se ci mette una vita no 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 ci mettiamo un attimo intanto adesso in chat ragazzi c'è qualcuno del nord intanto avete visto cosa dovete fare una frase siete da Toscana siete del Veneto siete del Friuli del Trentino della Valle d'Aosta del Piemonte del Mila Romagna no e scrivete a Fedeiu su Instagram Fedeiu su Instagram sopra Roma sopra Roma sopra Roma sopra Roma Toscana Lazio la le Marche l'Umbria l'Abruzzo Molise Gio si sono dimenticati che abbiamo preso Parma San Benedetto Ascoli Piceno Ascoli Piceno l'abbiamo preso loro hanno letteralmente tre punti perché Cocche Veronese non so se te ne sei accorto ma Gren si è giovato quattro punti da nulla cosa Simo quanti punti hai segnato chi tu cosa stai scrivendo Simone stavo sistemando ho messo i punti prima 19 a 6 19 ma a parte che non erano a 6 no infatti Gio io sono fiscale su ste robie allora io sto aspettando l'ultimo round perché secondo me se te facciamo tre punti noi mi sa che ti superiamo 17 20 17 18 19 20 è vero è vero è vero bene bene ah si è aggiunto 10 punti non io Gio Gio 11 11 per l'esattezza se ne puoi aggiungere più 12 questo round lo perdono di nuovo cioè ok 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 ripetilo ripetilo e abbi le palle di dire io secondo me secondo me non vincete neanche se vi aggiungete 10 punti però vediamo ok se vinciamo però vinciamo vai ok ok prossimo Fede ok oh c'ha 8000 sub ciao tom ciao tom dai cristo ti prego non ti si sente sicilia catanzaro coca hai saputo cosa hai detto no sicilia catanzaro detto una provincia di un'altra regione vai cazzo non ti si sente ah si c'è per B non c'è pò Trentino Alto Adige no Piemonte Piemonte Valle d'Aosta no Liguria ma come Liguria si sei anche Genova di Zena di Zena mio fratello Tom Zena 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 la frase la frase puoi ridire la frase Tom per favore allora è facile chiusciare non c'è pò chiusciare non c'è pò no no ragazzi che coca è una donna no bro puoi ridirla puoi ridirla chiusciare non c'è pò questa è quella facile non si può fare cosa soffiare sì soffiare sul vino soffiare sul vino niente ah lo fai agitare chiusciare e churbi non c'è pò soffiare e soffiare e succhiare ciucciare no soffrire aspirare soffiare e aspirare no dimmi la parola giusta dai soffiare e respirare ah soffiare inalare no dai aspirare allora allora vi do un indizio ok se metti dell'acqua nella tua pelle succhiare ah no scusami dopo un po' se ne va perché evaporare evaporare ma adesso va bene ragazzi si assorbe asciugare assorbire non si può ho detto assorbire tre punti ho detto assorbire ho detto assorbire ho detto assorbire senza di me non ce l'avete fatta capirla ho detto assorbire tre punti grazie grazie tom ciao altri tre punti a noi 22 22 a 6 ciao raga bella fra mox ciao vai prego allora prego la mia frase senza lille rinunzi l'ale toscana bimbi senza lille rinunzi l'ale io direi dove è però troppo scontato e vabbè però a volte la scontatezza vabbè dai firenze dai firenze si va a letto simo a letto per forza Livorno pisa luca 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 ma non è mica oh siamo in due qua posso fare ok coca ti ho detto luca noi abbiamo andato pisa abbiamo preso i lilleri puoi ridire la frase per favore fra mox sì senza lilleri non si ballera senza soldi senza soldi non vivi cioè non mangi non fa niente senza soldi non si scopa e non ti diverti non ti diverti senza soldi gogi poco ok 25 a 6 ok basta basta pure col nord pure col nord ciao è incazzato d'altronde we are forced forse si alleggo ma non puoi sbagliare vai ma sono Milga no eh 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 lombardia vai lombardia milano lombardia sì ma milano eh vai breccia no eh torino ma lombardia sì lombardia non sto bene non sto bene non sto bene non voglio fare questo gioco non è lombardia torino ma che cazzo dici ma cazzo ma scusa ma rovazzi ti facciamo andare in giro con una benda così per tutta l'italia ma che cazzo è possibile lombardia torino madonna ho male la schiena eh io alle orecchie no no gioia secondo me sei di co di como no eh l'alto allora ma come provincia di Milano no 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 come non è provincia di Milano no cuneo ma che cuneo ma dove ah ok ok bravo comun cuneo bella vai di subvenimento sono vicino a Milano eh Varese Varese eh eh Monzebrianza no eh eh zì è difficile penso sia la provincia meno inculata di tutta la Lombardia eh boh vai Lodi eh ma vai cagare l'odigianal figa l'odigianal ragazzi bene bene grazie grazie mille bene ciao bro ciao vabbè la frase ma si esatto ma sta dando un po' il bacchino la frase la frase la frase è la frase eh ma sono nomi il geno piccola veloce eh ripeti non ho sentito non ho sentito ma sono nomi il geno eh oh pff ah dovresti sapere grazie dai Simo quello di Sanremo Gamon no sono nomi il genè sono nomi no genè vuol dire non ci sono non ce n'è eh ho capito sono nomi devo capire eh sì ci dà un indizio è tipo se la dicessi in una frase sarebbe ma sono nomi ah ma sono che palle cazzo ah sì che palle che su nomi tipo cioè mi sono rotto le palle non lo so figa ma figa ma minchia ma figa bravo gio ok perfetto un punto a noi 25 a 7 bene ciao grazie ciao abbiamo triplicato perché mi stanno dicendo in chat che siamo ciao ciao dai ciao cosa ti hai detto cosa ti hai detto Gioe la gag la gag la gag la gag di basso livello ciao Gioe vado ciao Gioe ciao come ti chiami un voi falsa put ma si sono una beciaccola niente vai Simone falla parlare che li puoi ripetere sto stupidino un voi falsa put ma si sono una beciaccola ah easy Lombardia Milano ho detto prima io porco ok vai ha detto allora ma cosa guardi dove guardi guarda dritto puoi mettere sul canale 13 vedere se c'è la Lombardia o ti colleghi a Teletrentino non è Lombardia coglione non lo so però per capire se prendere il segnale vuol dire che è lontano dalla Lombardia sì dai non è una cazzo di regione sono cinque Piemonte 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 dici lo Piemonte devo dirlo sì cioè di dirsi o no di dirsi o no non è Piemonte Valle d'Aosta no sono io un coglione sono io un coglione io non ho capito l'accento dalla frase non ho capito anch'io la ripeto sì sì per favore la ripeto voi fa il saputo ma si sono una beciaccola ha detto Simone non l'ho parlato apposta Friuli ma va è Emilia Romagna Emilia Romagna no Dio basta figa francese Trentino sono indeciso tra due Gioe ma che cazzo o è quella di là o quella di là o al centro o a destra eh ditela Veneto no 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 più giù Marche ma non più giù sì lo volevo dire io o Umbrio Marche ti volevo dire Ancona no no non so che città ci sono vai vai se non è Ancona è Ascoli cioè oddio se è provincia di Ascoli è provincia di Ancona però la frase usa allora è ancora vostra 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 è più vostra vuoi dire vuoi dire la frase due punti non vuoi far saputo ma sei solo una beciacca Manu tipo non voglio fare il saputello ma sei solo una scema tipo un ignorantello un ignorantella come si dice una caccola una caccola una caccola no scusa ripeti 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 sei fidanzata? non vuoi non vuoi far saputo ma sei solo una beciaccola ah beciaccola una troia beciaccola una pettegola una pettegola una pettegola giusto sì quindi non voglio fare il saputello ma sei solo una pettegola ok tre punti a noi perfetto li segno subito tre punti a voi 10 a 25 ok bene bene ciao Gio ciao sorridi sempre che sei bellissima ciao grazie ci ciao 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 perché mi dicono ciao a tutti torino torino no una parla parla no vai 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 dire la frase sentimento meno te vedo e meglio mi sento e vabbè ho stato prima io ho stato prima io ma cosa ne stai prima te ma dai c'è la prima Simone c'è la prima Simone cerchiamo di essere sinceri c'è la prima Simone c'è la prima Simone stavolta prima Manu stavolta ragazzi l'obiettivo è prima io credo eh no 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 prima Manu no 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 siete tutti dei bugiati regione questa è Lazio ok dovrebbe essere Roma eccolo eccolo tra il Dino Gucciolone bisellone poi rilavrate aspetta ma ricordo con affetto e sentimento meno te vedo e meglio mi sento eh va bene con affetto e sentimento meno ti vedo meglio è romana è romana è romana è romana è romana è romana 28 a 10 ma come sei forte sei grini poi lo sfonto bella ciao 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 basta basta allora vabbè quindi abbiamo vinto 80-17 assurdo il mondo 80 punti dai 80-80 c'è una piccola cosa che sicuramente tu Gio non ti sei ricordato ricordati come erano i punti in questi round erano i punti doppi quindi allora avete segnato tre punti si devo aggiungervene 6 no ma valevano solo per quel round i punti doppi e comunque dobbiamo aggiungere i punti doppi anche a noi allora siamo 35-16 erano solo per noi io ho fucking squadra ok vabbè siamo 28 siamo 30-16 no 28-16 siamo 80-17 ma io non c'ho neanche voglia a quest'ora di far ste robe dopo il 26 settembre io riceverò 20 sub da Simone o da Kokeshi e Manux dopo il 26 settembre riceverà 20 sub o da Simone o da Kokeshi decidete voi forse